E ora parliamo di cultura. Il Festival dell'Ottocento di Padova non si arrende alla pandemia e propone per questo fine settimana una serie di eventi in streaming. Altri appuntamenti saranno invece a gennaio. Un modo per mantenere saldo il legame con il pubblico spiega l'associazione organizzatrice Sugar Pulp in attesa della prossima edizione in presenza. Rossana Caviglioli. Per vedere un altro valseri in costume tra le sale del Cafè Pedrocchi si dovrà aspettare. Tutti gli eventi in presenza del Festival dell'Ottocento di Padova sono infatti rimandati a tempi migliori. La manifestazione però non si ferma e propone per il 5 e 6 dicembre una serie di eventi online, una sorta di anteprima della prossima edizione in presenza. Ottocento Padova Festival quest'anno è stato spostato ai primi mesi del 2021 però proprio in questi giorni in cui si sarebbe dovuta tenere la terza edizione abbiamo deciso di regalare agli appassionati alcune chicche per restare vicini al pubblico e per continuare comunque anche a dare un segnale di speranza. Ospiti di due dirette streaming Giancarlo De Cataldo e Antonio Caprarica verrà poi trasmesso online uno speciale dedicato al grande musicista Paganini raccontato da Matteo Struccul con Francesco Ferracin, tutto disponibile in diretta su Facebook e poi sul canale YouTube del Festival. In attesa di potersi incontrare di nuovo con il programma del 2021, già in cartellone una serie di incontri dedicati a moda, letteratura e cinema. È anche molto particolare entrare al Pedrocchi, vedersi attorno persone vestite con abiti ottocenteschi e di colpo si entra davvero nella magia, nella poesia di un secolo che è stato incredibile.